Nocera inferiore Noi purtroppo dagli anni 80-90 ci sta questo prefabricato che è zeppo di Eternit, è pieno, tutto è Eternit. Noi abbiamo paura per la nostra salute, salute di mio fratello, nostra perché noi stiamo qua e non sappiamo più come fare. Vogliamo chiamare in causa il sindaco che ha preparato un progetto per la sanificazione dei fabbricati? Infatti noi qua stiamo proprio ad altezza Uomo, lo respiriamo questo Eternit. Io signor sindaco vi chiedo di prendere a causa il nostro problema che è veramente un problema, non è che è respirabile nell'aria. No, noi lo respiriamo proprio ad altezza Uomo perché la casa è proprio attaccata con la nostra. E allora caro sindaco Torquato, nessuna polemica, solo la richiesta di un interessamento. Al Comune ci sono state varie denunce, è intervenuto l'ARPAC, sono intervenuti da quanto mi hanno detto anche i vigili, perché è necessario che ci si preoccupi e si verifichi se questo Eternit può arrecare danno, se è in condizioni tale da arrecare danno con la respirazione o meno.